ciao amici facciamo insieme i miei esercizi tonificanti per avere un sedere tonico e bello sgompio aspetta io non sono in palestra adesso ma non serve questi tre esercizi si fanno da seduti io li faccio ogni giorno mentre rispondo ai vostri commenti e questo è uno dei miei segreti e da oggi anche il vostro se volete dai adesso facciamolo insieme siete pronti tutti seduti allora esercizio numero 1 distendete e alzate la gamba destra e tenendola dritta disegnate dei cerchi per 15 o 20 secondi poi gradualmente arriverete fino a 30 prima una gamba e poi l'altra per 5 ripetizioni ognuna musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.